segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te che tutti hanno sottovalutato c'è anche questo racconto come l'hanno scelto eccetera fu scelto perché sembrava un mite avvocato e si è rivelato una tigre coi denti in politica insomma e conte non si è preso addosso questa storia perché poi è stato il primo ad aver cambiato a favore dell'europa quando ha capito la partita però la questione è un'altra lì che conte e questo lo dico brevemente anche conte era dentro quelli che facevano i viaggi tant'è vero si parla di un viaggio molto forte di molto di un viaggio di salvini non si parla di quello che fece con fece il viaggio in russi inoltre conte nel suo primo discorso e pro cita la letteratura cita pushkin cita la letteratura russa c'è tutta una ideologia anche strutturata rispetto alla giudizia si impegna nel discorso della fiducia ad eliminare le sanzioni a dare una mano a eliminare le sanzioni però questo è un fatto culturale su cui lui non ha operato e al momento perciò dico gli è stato fatto uno sconto capito ci dobbiamo fermare per la pubblicità vedo anche lorenzo pregliasco in collegamento quindi ospiti già presentati restate con noi